quando un uomo nel mio stato non gli resta che fare esami di coscienza non ho motivo di rifiutare la mia idea fissa che quanto accade a un uomo è condizionato da tutto il suo passato insomma è meritato evidentemente le ho fatte grosse per trovarmi a questo punto anzitutto leggerezza morale non mi sono mai posto davvero il problema di che debbo fare secondo coscienza ho sempre seguito impulsi sentimentali ed onistici su questo non c'è dubbio persino il mio misoginismo era un principio voluttuario non volevo seccature mi compiacevo della posa quanto questa posa fosse invertebrata si è visto poi e anche nella questione del lavoro sono mai stato altro che un edonista mi compiacevo del lavoro febbrile a scatti sotto l'estro dell'ambizione ma avevo paura paura di regarmi non non ho mai lavorato davvero ma infatti non so nessun mestiere e si vede chiara anche un'altra magagna non sono stato mai il semplice incosciente che gode le sue soddisfazioni e se ne infischia sono troppo vile per questo mi sono sempre carezzato con l'illusione di sentire la vita morale passando attimi deliziosi e la parola giusta a farmi dei casi di coscienza senza risoluzione di risolverli nell'azione se poi non voglio di sotterrare la compiacenza che un tempo provavo nell'avvilimento morale a scopo estetico sperandone una carriera da genio e questo tempo non l'ho ancora superato alla prova ora che ho raggiunto la piena abiezione morale a che cosa penso penso come sarebbe bello se questa abiezione fosse anche materiale avessi per esempio le scarpe rotte soltanto così si spiega la mia vita attuale da suicida e so che per sempre sono condannato a pensare al suicidio davanti ad ogni imbarazzo o dolore questo che mi atterrisce il mio principio è il suicidio mai consumato che non consumerò mai ma che mi carezza la sensibilità il terribile che tutto quanto mi resta ora non basta raddrizzarmi perché nell'identico stato a parte i tradimenti ce l'ho già stato in passato e già allora non avevo trovato nessuna salvezza morale nemmeno questa volta mi indurirò è chiaro eppure o che l'infatuazione mi inganna ma non credo avevo trovato la via della salvezza e con tutta la debolezza che era in me quella persona mi sapeva legare a una disciplina a un sacrificio col semplice dono di sé e non credo che questa fosse la virtù di pierino perché il dono che lei mi alzava all'intuizione di nuovi doveri me li rendeva corpo dinanzi perché abbandonato a me ne ho fatto l'esperienza sono certo di non riuscirci fatto una carne un destino con lei si sarei riuscito ne sono altrettanto certo anche per la mia stessa viltà sarebbe stato un imperativo al mio fianco invece che cosa ha fatto forse lei non lo sa o se lo sa non gliene importa ed è giusto perché lei e lei ed ha il suo passato che le traccia l'avvenire ma ha fatto questo che io ho avuto un'avventura durante la quale sono stato giudicato e dichiarato indegno di continuare davanti a questo tracollo non è assolutamente più nulla il rimpianto dell'amante che pure è così atroce o la ravina della posizione che pure è grave si confonde il senso di questo tracollo con la martellata che nel 1934 aveva cessato di picchiarmi via l'estetica via le pose via il genio via tutte le balle ho mai fatto qualcosa io nella vita che non fosse da fesso da fesso nel senso più banale e irrimediabile lo uomo che non sa vivere che non è cresciuto moralmente che è vano che si sorregge col puntello del suicidio ma non lo commette vediamo se anche di qua si può cavare una lezione tecnica la solita banale ma non ancora penetrata è sommamente voluttuoso abbandonarsi alla sincerità annullarsi in qualcosa di assoluto ignorare ogni altra cosa ma appunto è voluttuoso cioè bisogna smettere se una cosa dovrebbe mai essermi chiara è questa ogni fregata da me presa è originata dal mio abbandono voluttuoso all'assoluto all'ignoto all'inconsistente non ho ancora compreso quale sia il tragico dell'esistenza non me ne sono ancora convinto eppure è tanto chiaro bisogna vincere l'abbandono voluttuoso smettere di considerare gli stati d'animo quali scopo a se stessi per un poeta è difficile o anche molto facile un poeta si compiace di sprofondarsi in uno stato d'animo e se lo gode ecco la fuga dal tragico ma un poeta dovrebbe non dimenticare mai che uno stato d'animo per lui non è ancora nulla che quanto conta per lui è la poesia futura questo sforzo di freddezza utilitaria è il suo tragico che occorra vivere tragicamente e non voluttuosamente è provato da quanto ho patito sinora anzi da quanto ho inutilmente patito mi ha aperto gli occhi la rilettura delle poesie del 27 trovare in quella sbrodolata e napoletana ingenuità gli stessi pensieri le stesse parole di questo mese scorso mi ha atterrato nove anni sono passati e io rispondo ancora tanto infantilmente alla vita e quella virilità che pareva cosa mia duramente conquistata negli anni del lavoro era tanto inconsistente meno che ad ogni altra cosa meno che ad ogni altra cosa la colpa di tale insufficienza va alla poesia la poesia semmai mi ha insegnato a dominarmi a raccogliermi a veder chiaro la poesia mi ha reso nel più pratico dei sensi la colpa va alla sogneria cosa molto diversa enemica della buona arte va al mio bisogno di evitare la responsabilità di sentire senza pagare non è soltanto una similitudine il parallelo tra una vita di abbandono voluttuoso e il fare poesie isolate piccole una ogni tanto senza responsabilità d'insieme ciò abitua a vivere a scatti senza sviluppo e senza principi la lezione è questa costruire in arte e costruire nella vita bandire il voluttuoso dall'arte come dalla vita essere tragicamente lo non vieta si capisce di fare il porco ogni tanto o il suo nettuzzo o la novella anzi bisogna farlo solamente ricordarsi che per comporre una novella o una serata non occorre scomodare cielo e terra ciò spiegato e sottoscritto è umano lasciarmi sfogare e meditare che torto più grosso nessuno me lo aveva fatto mai non per la questione dell'amore abbiamo le palle piene dell'amore ma per quell'altra ragione che proprio questa volta andavo cercando di pagare di rispondere di legarmi e limitarmi di tragicizzare il voluttuoso insomma è bene che mi sia accaduto il contrario si proverà così se la mia virilità può riprendersi è bene è bene ma pure è stata una glossa villania e a pensarsi sopra a escludere volonterosamente ogni voluttuosa sogneria e passione chi può dire se la mia tortura non nasca proprio da questo che mi è stata fatta una cota ingiusta una cattiva azione e non si trova anche qui una lezione di tecnica una poetica la verità è che nulla del mondo mi è ancora passato attraverso lo spirito proiettandosi in radiografia nella sua struttura di realtà costitutiva e metacorporea non sono ancora giunto al grigio e semipiterno scheletro che c'è sotto ho veduto dei colori annusato degli odori e carezzato gesti contentandomi di una gioia elettrice e riordinatrice ho scherzato come con amici e goduto da solo ho ignorato la parola pensata le mie parole furono sensazioni i miei ritratti furono quadri non drammi mi sono fissato su figure e le ho tanto rimuginate e contemplate da riprodurne una trasfigurazione soddisfatta ho semplificato il mondo a una banale galleria di gesti di forza o di piacere c'è lo spettacolo della vita in quelle pagine, non la vita tutto è da ricominciare bisogna aver sentito la smania dell'autodistruzione non parlo del suicidio tanto come noi innamorate della vita dell'imprevisto, del piacere di raccontarla non può arrivare al suicidio se non per imprudenza e poi il suicidio appare ormai come uno di quegli oroismi mitici di quelle favolose affermazioni di una dignità del uomo davanti al destino che interessano saltuariamente ma ci lasciano a noi l'autodistruttore è un tipo insieme più disperato e utilitario l'autodistruttore si sforza di scoprire entro di sé ogni magagna ogni viltà e di favorire queste disposizioni all'annullamento ricercandole inebriandosene godendole l'autodistruttore è in definitiva più sicuro di sé di ogni vincitore del passato egli sa che il filo dell'attaccamento all'indovani al possibile, al prodigioso futuro è un cavo più robusto trattandosi dell'ultimo strattone che non so quale fede o integrità l'autodistruttore è soprattutto un commediante e un padrone di sé egli non lascia nessuna opportunità di sentirsi o di provarsi è un ottimista spera ogni cosa dalla vita e si va accordando a rendere sotto le mani del caso futuro i suoni più acuti o significativi l'autodistruttore non può sopportare la solitudine ma vive in un pericolo continuo che lo sorprenda una smania di costruzione di sistemazione un imperativo morale allora soffre senza remissione e potrebbe anche uccidersi bisogna osservare bene questo ai nostri tempi il suicidio è un modo di sparire viene commesso timidamente silenziosamente schiacciatamente e non è più un agire è un patire chissà se tornerà ancora al mondo il suicidio ottimistico esprimere in forma d'arte a scopo catartico una tragedia interiore può farlo soltanto l'artista che attraverso la tragedia vissuta già andava sottilmente tentando i suoi fili costruttivi già svolgeva un'incubazione creatricia insomma non esiste la tempesta sofferta pazzamente e poi la liberazione attraverso l'opera pena il suicidio tant'è vero che gli artisti che veramente si sono uccisi per i loro tragici casi sono solitamente lezzeri cantori direttanti di sensazioni che nulla accennarono mai nei loro canzonieri del profondo cancro che li rodeva da cui si impara che l'unico modo di sfuggire dall'abisso è di guardarlo e misurarlo e sondarlo e di scendervi è di una desolatezza tonificante come un mattino invernale patire un'ingiustizia ciò rimette in vigore secondo i nostri più gelosi desideri il fascino della vita ridà il senso del nostro valore di fronte alle cose ad una mentre soffrire per un puro caso per una disgrazia è avvilente ho provato e vorrei che l'ingiustizia e l'ingratitudine fossero stati ancora maggiori questo si chiama vive e a 28 anni non essere precoci è così raro però soffrire una bella totalitaria ingiustizia sono così tortuosi i nostri atti in genere si trova sempre che un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi addio mattino invernale non solo un po' di colpa ma tutta la colpa non c'è scampo sempre che la coltellata venga tirata per scherzo per ozio da una persona fatua non allevia le fitte ma le rende più atroci disponendo a meditare sulla casualità della cosa e sulla propria responsabilità nel non aver preveduto la caduta immagino che sarebbe un conforto sapere che la persona feritrice si macera di rimorsi a netta importanza alla cosa non può nascere da altro questo conforto che dal bisogno di non essere solo di serrare legami tra il proprio io ed altri inoltre se quella persona soffrisse il rimorso di aver straziato non me in particolare ma soltanto un uomo in quanto creatura desidererei questi suoi rimorsi bisogna quindi che proprio io e non l'uomo che è in me venga riconosciuto l'impianto e amato e non si apre il campo a un'altra durevole tortura ricordando che la persona feritrice non è fatua oziosa e leggera ricordando che essa è solitamente seria comprensiva attesa e che soltanto nel mio caso ha scherzato non solo quella persona non soffre il rimorso di avere straziato me in particolare ma si sente divertita proprio nel mio caso particolare non ci sarebbe che un modo di trovare umana la situazione ed io mi sento nella situazione opposta sempre più bello se poi anche il tipo che più cade a terra e dovrebbe pensare soltanto a rialzarsi lui pensa a volare e se ne esalta e anzitutto il gusto dei contrasti è l'abitudine di contemplarsi nessuno che non abbia il vizio di guardare a sé come un altro un importantissimo altro può durante il dolore o la preoccupazione esaltarsi invece nel piacere e nella libertà un uomo che ha vissuto 12 anni con un ideale tanto più si è inconfessato quando viene al risveglio si trova inevitabilmente compromesso col suo carattere e non sfugge più all'abitudine di quell'ideale ora tra le molte cose mostruose bruttissima è l'abitudine di un ideale da tutto ci si corregge non da questo potrà provare a mutare la direzione all'ideale non altro fortuna che di tutte le abitudini spirituali passioni deformazioni compiacenza serenità eccetera l'unica che sopravvive ai giorni è la calma tornerà bisogna andare ad agio a comunicare le scoperte psicologiche di perversità potenti a chi ignorava di essere tale perché la prima vittima ne sarà lo scopritore veritiero la vecchia storia del toro di perillo chi rivela a una donna l'essere potenziale direi ne sarà il primo cornuto è matematico appunto matematico quale mezzo migliore per una donna che vuol fottere un uomo se non portarlo in un ambiente non suo vestirlo in un modo ridicolo esporlo a cose di cui è inesperto e quanto a lei avere nel frattempo altro da fare magari quelle cose stesse che l'uomo non sa fare non solo lo si fotte davanti al mondo ma importante per una donna che è l'animale più ragionevole che esista ci si convince che va fottuto si conserva la buona coscienza perché con l'abilità e l'esperienza si giunge a questa cosa incredibile predisporre le cose e i fatti le catene di casualità in modo che quanto si desidera avvenga senza offendere i propri principi di comportamento etico racconta mi ha detto un giorno come mi avrebbe trattato era a quel tempo ansioso in cui nulla era accaduto ma doveva avvenire la facevo parlare del suo passato nella smania di conoscere quanto più potevo di lei e avere posto alla mia sogneria raccontava di un giovanotto semplice che l'aveva attaccata in treno descriveva colui come determinato e comune con poca fatica l'aveva infatuato a parole e a gesti pure con me ha fatto un viaggio poi aveva concluso dandogli un falso nome e il giovanotto le aveva scritto una domanda di matrimonio anche il conforto di umiliarsi cade nella solita volutà o è un principio valido ci si umilia cioè come per sfruttare un contraccolpo dell'esperienza facendone pretesto ad un autospettacolo gratuito senza impegni morali o per scavare un filone di condotta etica per ricercare insomma un piano coscienzioso di doveri che ci sia una compiacenza nell'umiliazione propria è un fatto distinguere se si gode voluttuosamente o tragicamente pare impossibile in fondo siccome non ho trovato altro rimprovero alla volutà che di rovinare chi la esercita di farlo inutilmente soffrire basterebbe chiarire se l'auto umiliazione faccia inutilmente soffrire o meno e nel mio caso come uscire dalla solita direttiva di controllare la legittimità del mio stato con la sua fecondità o sterilità creatrice perché certo questa direttiva è falsa o almeno insufficiente dato che non tutti fanno il mestiere dei creatori utile o inutile sofferenza si determineranno in rapporto a tutta un'esistenza e che l'interessato sia poi anche un creatore non riguarda per nulla la coscienza si tratta qui di esigenze che scavano alle fondamenta al di là al di là dal mestiere dalla classe e dalla nazione ma leva questo leva quello che cosa resta a far da servo ai doveri bisogna quindi non escludere il mio stato di creatore per scendere in cantina a cercare la pietra angolare ma considerare semplicemente che oltre a creatore sono anche un uomo e un disoccupato e un apolitico e un ragazzo e altre cose che mi sfuggono è un bel lavorare insieme è un bel lavoro esaminare l'effetto dell'automutilazione su tutti questi stati e trovare il massimo comune divisore e non solo nel presente ma in tutto il mio passato poiché ricordare il peccato non è un'azione piuttosto che un'altra ma tutta un'esistenza mal congegnata è dunque un peccato la mia automutilazione un'idea come ho saputo ragionare di estetica soltanto quando ho avuto dinanzi un branco di poesie mie dove ho sviscerato il problema e veduto come tutto fosse da ricominciare ecco che dovrà mettermi innanzi un numero di azioni etiche mie e qui meditarle e decidere quali potrò riprendere quali no quali sono i motivi costanti se ci sono senza dubbio e tutto il resto la difficoltà è isolare queste azioni per maneggiarle come maneggio ogni singola poesia e dopo tutto non è una novità già sovente ho fatto questo lavoretto se è vero che ci si abitua al dolore come mai con andar degli anni si soffre sempre di più no non sono pazzi questa gente che si diverte che gode che viaggia che fotte che combatte non sono pazzi tanto è vero che vorremmo farlo anche noi se in tutte le cose il martellamento trionfa perché non anche in questa pensare che quel corpo ha pure un pensiero un risveglio un riposo un languore una quotidiana durata e se io fossi quell'uomo avrei davvero tutto questo nella stanza vicina o sotto gli occhi la giornata finirebbe in lei questo ho perduto e non c'è forza umana che possa ridarmelo e tutto questo è stato buttato senza amore e non è un delitto non è un peccato non è nemmeno una scorrettezza è una cosetta che si fa che non rimorde come schiacciare un moscerino allegri c'è una legge morale l'unica gioia al mondo è cominciare è bello vivere perché vivere è cominciare sempre ad ogni istante quando manca questo senso prigione malattia abitudine stupidità si vorrebbe morire è per questo che quando una situazione dolorosa si riproduca identica appaia identica nulla ne vince l'orrore il principio suddetto non è poi da viver perché c'è più abitudine nell'esperienza ad ogni costo che nella normale rotaia accettata doverosamente vissuta con trasporto e intelligenza sono convinto che c'è più abitudine nelle avventure che in un buon matrimonio perché il proprio dell'avventura è di servare una riserva mentale di difesa per cui non esistono buone avventure è buona quell'avventura cui ci si abbandona il matrimonio insomma magari di quelli fatti in cielo chi non sente il perenne ricominciare che vivifica un'esistenza normale coniugata è in fondo uno sciocco che quantunque dica non sente nemmeno un vero ricominciare in ogni avventura la lezione è sempre una sola buttarsi a capofitto e sapere portare la pena è meglio soffrire per aver osato far sul serio che il toshrink come nel caso dei figli lo vuole del resto la natura e dare indietro è vile alla fine se si è visto si paga più cara la legge morale serve a non fare del male a noi non a risparmiarlo agli altri la carità soltanto può dirci quanto male facciamo agendo secondo il nostro dovere ciò si vede non solo nei casi d'amore ma in tutta la vita ma questo sarebbe un immenso ideale chiedere sempre instancabilmente a ciascuno che cosa lo offende lo priva lo tortura e compensare abbracciare riaccendere ma ciascuno vuole dire a tutti e vuol dire sempre e non si può non si può specialmente perché uno almeno non avrebbe questo compenso questo abbraccio e quest'uno siamo noi perché una cosa è certa veder godere anche per opera nostra non basta la nostra pace esempio le donne soddisfatte pare miscuglio di sacro e di profano ma non è la vita comincia nel corpo scrivo abbi pietà e poi non dovrai mai più prendere sul serio le cose che non dipendono da te solo come l'amore l'amicizia e la gloria e quelle che dipendono da te solo importa poi molto se le piglio o no sul serio chi ne saprà più nulla perché se si è soli non è chi anche l'io se ne scompare sempre più bello perché dimentichiamo i morti perché non ci servono più un triste o un malato lo dimentichiamo respingiamo in ragione della sua inservibilità psichica o fisica nessuno mai si abbandonerà in te se non ci vedrà il suo tornaconto e tu credo di essermi abbandonato una volta disinteressatamente quindi non devo piangere se ho perduto l'oggetto di quell'abbandono non sarei più stato disinteressato in questo caso eppure a vedere quanto si soffre il sacrificio è contro natura o superiore alle mie forze non posso non piangere piangere e cedere al mondo e riconoscere che si cercava il tornaconto c'è qualcuno che rinuncia pur potendo avere questa carità non è altro che l'ideale dell'impotenza e allora basta con la virtuosa indignazione se avessi avuto denti e astuzia avrei raccolto io la preda ma questo non toglie che la croce del deluso del fallito del vinto di me sia atroce a portare dopo tutto il più famoso crocifisso era un dio né deluso né fallito né vinto eppure con tutta la sua potenza ha gridato è lì ma poi si è ripreso ed ha trionfato e lo sapeva prima ma questo patto chi non vorrebbe la crocifissione tanti sono morti disperati e questi hanno sofferto più di Cristo ma la grande e la tremenda verità è questa soffrire non serve a niente tutti gli uomini hanno un cancro che li rode un escremento giornaliero un male a scadenza la loro insoddisfazione il punto di scontro tra il loro essere reale scheletrico e l'infinita complessità della vita e tutti prima o poi se ne accorgono di ciascuno bisognerà indagare immaginare il lento accorgersi o il fulmineo intuire quasi tutti pare rintrazzano nell'infanzia i segni dell'orrore adulto indagare questo vivaio di retrospettive scoperte di sbigottimenti questo loro angoscioso ritrovarsi prefigurati in gesti e parole irreparabili dell'infanzia i fioretti del diavolo contemplare senza posa questo orrore ciò che è stato sarà l'errore dei sentimentali è di non credere che esistono teneri affetti ma di accampare un diritto su questi affetti in nome della propria tenera natura mentre soltanto le nature dure e risolute sanno e possono crearsi una cerchia di teneri affetti e va da sé tragedia che esse li godono meno chi ha denti eccetera sia chiaro una volta per tutte che essere innamorato è un fatto personale che non riguarda l'oggetto amato nemmeno sequestoria sia chiaro una volta per tutte che essere innamorato è un fatto personale che non riguarda l'oggetto amato nemmeno sequestoria ci si scambia anche in questo caso dei gesti e delle parole simboliche in cui ciascuno legge quanto ha dentro di sé e per analogia suppone viga nell'altro ma non c'è ragione non c'è bisogno che i due contenuti combacino ci vuole un'arte tutta propria per sapere accettare e interpretare favorevolmente quei simboli e disporvi la propria vita in modo soddisfacente nulla può fare l'uno all'altro se non offrire di questi simboli illudendosi che la corrispondenza sia reale ma occorre una riserva di pratica scaltrezza occorre aver deciso di servirsi di questa offerta fatta per bisogno individuale dell'oggetto amato per appagare le proprie necessità chi sarà stato scaltro nell'interpretazione della corrispondenza non soffrirà vicende farà accadere ogni cosa secondo il suo vantaggio creerà un mondo di cristallo in cui si godrà l'oggetto ma non dimenticherà mai che la sfera di cristallo è un vuoto dove l'aria non penetra e si guarderà dal romperla nell'ingenuo tentativo di aerearla abbandoni trasporti figli devozioni fiducia sono simboli individuali dai quali l'aria la mistica penetrazione dell'altro è sempre esclusa vi è insomma tra questi simboli e la realtà lo stesso rapporto che tra le parole e le cose bisogna essere così scaltri da prestar loro un significato senza scambiarli con la sostanza vera che è la solitudine di ciascuno fredda e immobile l'effetto del dolore disgrazie sofferenze quando siano mentali è di creare un filo spinato nella mente e costringere i pensieri a evitare certe aree per sfuggire alle angosce che vi regnano in questo senso soffrire limita l'efficienza spirituale che finito il dolore la propria potenza si trovi accresciuta non è poi tanto gloriosamente vero anzitutto perché un certo indolenzimento nell'area resta sempre è una tendenza a evitare il malopasso e poi perché se durante la pena non si è acquistato nulla non si vede come si possa acquistare dopo nella normalità il fatto è questo che si è acquistata esperienza la cosa cioè più astratta e vana quanto alla tempra la si è solo indebolita nessun carattere ha dopo un dolore la tempra che aveva prima come nessun corpo dopo una ferita ha la salute di prima se non un indurimento esacerbato il famoso stato corneo tutti questi grandi spiritualisti parlano in fondo di risultati materiali nozioni su se stesso sulla vita massime che ci si dà eccetera l'efficienza la tempra la portata del ponte ognuno vede chiaramente che col dolore subisce soltanto una limitazione d'attività e quando ritorna ad avere campo libero non ha nemmeno il vantaggio di essersi rinvigorita con un riposo dato che soffrire travaglia e lima anche se non lascia libero gioco il dolore fa vivere in una sfera incantata etra sognata dove le cose quotidiane e banali prendono un rilievo pauroso e thrilling non sempre sgradito la coscienza di un distacco tra la realtà e l'anima ci fa levare in alto e ci lascia intravedere il reale e il nostro corpo come qualcosa di remoto e di strano insieme e questa è la sua efficacia educativa la realtà della guerra suggerisce questo semplice pensiero non è doloroso morire quando muoiono tanti tuoi amici dalla guerra nasce un senso di gruppo benvenuto c'è un'arte di ricevere in faccia le sferzate del dolore che bisogna imparare lasciare che ogni singolo assalto si esaurisca un dolore fa sempre singoli assalti lo fa per mordere più risoluto e concentrato e tu mentre hai i denti piantati in un punto e inietta qui il suo acido ricordati di mostrargli un altro punto e fartici mordere solleverai il primo il vero dolore è fatto di molti pensieri ora di pensieri se ne pensa uno solo alla volta sappiti barcamenare tra molti riposerai successivamente i settori indolenziti il dolore non è affatto un privilegio un segno di nobilità un ricordo di dio il dolore è una cosa bestiale e feroce banale e gratuita naturale come l'aria è impalpabile sfugge a ogni presa e a ogni lotta vive nel tempo è la stessa cosa che il tempo se ha dei sussulti e degli urli li ha soltanto per lasciar meglio indifeso chi soffre negli istanti che seguiranno nei lunghi istanti in cui si riassapora lo strazio passato e si aspetta il successivo questi sussulti non sono il dolore propriamente detto sono istanti di vitalità inventati dai nervi per far sentire la durata del vero dolore la durata tediosa esasperante infinita del tempo dolore chi soffre è sempre in stato d'attesa attesa del sussulto attesa del nuovo sussulto viene il momento che si preferisce la crisi dell'urlo alla sua attesa viene il momento che si grida senza necessità pur di rompere la corrente del tempo pur di sentire che accade qualcosa che la durata eterna del dolore bestiale sia un istante interrotta sia pure per intensificarsi in qualche volta viene il sospetto che la morte l'inferno consisterà ancora nel fluire di un dolore senza sussulti senza voce senza istanti tutto tempo e tutta eternità incessante come il fluire del sangue in un corpo e non morirà più forza dell'indifferenza è quella che ha permesso alle pietre di durare immutate per milioni di anni a sentire Freud tutto il pensiero nasce dall'istinto di morte è uno sforzo per legare i moti fuggitivi ionisiaci libidinosi della vita in uno schema che contenti il narcisismo dell'io l'io tende alla regressione verso la quiete a bastare a se stesso nella sua immobilità e assenza di desideri è una verità che si apprezza quando si soffre e si cerca di analizzare capire fissare la propria crisi e in definitiva ucciderla tutto ciò che fa il nostro corpo oltre all'esercizio dei sensi rimane impercepito le più vitali funzioni circolazione e digestione non le sappiamo così è del nostro spirito ignoriamo tutti i suoi movimenti e mutamenti le sue crisi eccetera che non siano la superficiale ideazione schematizzante soltanto una malattia ci rivela le profondità funzionali del nostro corpo così presentiamo quelle dello spirito quando siamo squilibrati cara forse tu sei davvero la migliore quella vera ma non ho più tempo di dirtelo di fartelo sapere e poi se anche potessi resta la prova la prova il fallimento oggi vedo chiaramente che dai 28 a oggi ho sempre vissuto sotto quest'ombra qualcuno direbbe un complesso e dica pure è qualcosa di molto più semplice anche tu sei la primavera un elegante incredibilmente dolce e flessibile primavera dolce fresca sfuggente corrotta e buona un fiore della dolcissima valle del Po direbbe chi so io eppure anche tu sei soltanto un pretesto la colpa dopo che mia è soltanto dell'inquieta angosciosa che sorride da sola perché morire non sono mai stato vivo come ora mai così adolescente nulla si assomma al resto al passato ricominciamo sempre chiodo scaccia chiodo ma quattro chiodi fanno una croce la mia parte pubblica l'ho fatta ciò che potevo ho lavorato ho dato poesia agli uomini ho condiviso le pene di molti i suicidi sono amici di timidi masochismo invece che sadismo il piacere di farmi la barba dopo due mesi di carcere di farmela da me davanti a uno specchio in una stanza d'albergo e fuori era il mare è la prima volta che faccio il consuntivo di un anno non ancora finito nel mio mestiere dunque sono un re in dieci anni ne ho fatto tutto se penso alle esitazioni di allora nella mia vita sono più disperato e perduto di allora che cosa ho messo insieme niente ho ignorato per qualche anno le mie tare ho vissuto come se non esistessero non ho stato stoico era eroismo no non ho fatto fatica e poi al primo assalto dell'inquieta angosciosa sono ricaduto nella sabbia mobile da marzo mi ci dibatto non importano i nomi sono altro che nomi di fortuna nomi casuali se non quelli altri resta che ora so qual è il mio più alto trionfo a questo trionfo manca la carne manca il sangue manca la vita non ho più nulla da desiderare su questa terra tranne quella cosa che 15 anni di fallimenti ormai escludono questo è il consuntivo dell'anno non finito che non finirò ti stupisci che gli altri ti passino accanto e non sappino quando tu passi accanto a tanti e non sai non ti interessa qual è la loro pena il loro cancro segreto la cosa più segretamente temuta accade sempre scrivo o tu abbi pietà e poi basta un po' di coraggio più il dolore è determinato e preciso più l'istinto della vita si dibatte e cade l'idea del suicidio sembrava facile a pensarci eppure donnette l'hanno fatto ci vuole umiltà non orgoglio tutto questo fa schifo non parole un gesto non scriverò più o un 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 Grazie a tutti